La Game Social ha rilasciato il 14 settembre 2023 l'aggiornamento per quanto riguarda la Battlescope Hunter per Ijo Sigma. Ecco che io vi porterò quello che è l'aggiornamento, quindi solo le cose nuove, perché sono andato a verificare uno per uno, effettivamente non ci sono cambiamenti a quello che era prima, né di cose che sono state tolte, né di cose che sono state modificate o altro, quindi quello rimane comunque valido. E vi lascio quindi in descrizione il link al video precedente in modo che lo possiate recuperare. In questo caso vi porto appunto solo con O, quindi ci sarà un'analisi di cosa è stato portato. Comunque sono cose che ci stanno per la maggior parte, che sono state modificate o altro, ma andremo a vederle qui. Sul laboramento community troviamo l'articolo che vi lascio comunque in descrizione, dove troviamo una sorta di sommario di quello che è stato modificato, vi andare a vedere, e oltretutto trovate anche il link per scaricare la Battlescope stessa. In questo caso vi voglio ricordare che vi lascio anche questo come link del laboramento community per poter andare a ritrovare l'articolo, e anche vi voglio ricordare che se siete interessati potete andare a trovare questa Battlescope comunque nella sezione di laboramento community per i Giosilma, nella parte di download trovate comunque la Battlescope, quindi eventualmente c'è quella cosa lì. Quindi andiamo a vedere appunto la Battlescope aggiornata, quindi a vedere cosa è stato portato di nuovo, e ricordo che se siete interessati a quelle prime comunque c'è il link al video dove ne parlavo, quindi vediamo. Quindi andiamo a vedere quella che è la Battlescope Tactics of Honor di settembre 2023, possiamo vedere che alla fin fine l'Unit Coherency, Hero Phase, Command Ability Rally, Lookout Sear e Universal Artifact Power Alcantum, sono rimaste esattamente quelle, quindi non è stato cambiato nulla. Poi andiamo a vedere per quanto riguarda General Handbook 2023-2024, qui sono state apportate delle modifiche da tenere in considerazione. Il primo riguarda l'incantesimo Rupture della Lore of Primer Frost, che cambia l'incantesimo essere in valore di lancio 10, gittato a 18 pollici, e si risolve uno dei seguenti effetti. Il primo è, si sceglie un incarnate nemico, intorraggio e visibile al mago, e si infliggono di tre ferite mortali all'unità a cui è collegato l'incarnate stesso, e inoltre quell'incarnate immediatamente perde un livello di potere, fino al minimo di uno, e diventa selvaggio. Quindi molto molto intrigante, perché praticamente vuol dire che allo stesso tempo si depotenza l'incarnate, si danneggia l'altro modello a cui è legato, e in più lo si rende in modo tale che possa addirittura attaccare l'unità a cui prima era alleato. Quindi molto molto interessante, quindi è sia di attacco che di difesa, fantastico. E altrettanto interessante è l'altra opzione che è di scegliere un incantesimo Endspeth predatorio, entorrange e visibile al mago, che si è stato evocato da un mago wizard nemico, si infliggono di tre ferite mortali a quel mago nemico che l'ha evocato, e quell'incantesimo Endspeth è disperso. Questo è veramente ottimo, perché invece di usare uno dei tentativi di dispersione e finisce lì, si può fare sia danni al mago che disperdere il predatory. Quindi sicuramente è estremamente interessante. Poi abbiamo per quanto riguarda Messer e Blizzard, sempre della Lore of Time of Frost, che vede aggiungere questo testo alla fine della regola, per cui questo incantesimo non può essere lanciato da un'unità se questa è stata schierata o mosso precedentemente in quella fase, quindi deve essere rimasta farma in quel momento. Questo è molto interessante, perché limita un po' la possibilità. Poi abbiamo per quanto riguarda il No Reward Without Risk del Feedback Overload, che cambia a quando un wizard hero è ucciso, prima di rimuovere quel modello del gioco, si tira un dado al 4+, quel wizard esplode e le sue energie magiche vengono rilasciate in modo incontrollabile. Ecco che ciascuna unità, entro un numero di pollici uguale al valore cartellistico di ferite di quel wizard, e quindi vuol dire che più ha ferite, più è ampio questo range, che ricordo è ad area, ecco che soffre di tre ferite mortali, si tira separatamente per ciascuna unità. E vi voglio ricordare che questo va a bersagliare sia unità amiche che nemiche. Quindi bisogna fare attenzione, ma è sicuramente interessante. Poi abbiamo cambiamenti per quanto riguarda l'Enderspace Malevolent Maestrum e la Morbid Detonation, come effetto, che cambia l'ultimo paragrafo in quando questo Enderspace è rimosso dal gioco, se il dado a fianco a lui è 6 come valore, ecco che questo Enderspace esplode. Quando questo esplode, ogni unità entro 12 pollici da questo Enderspace soffre di tre ferite mortali, e i Wizard Heroes soffrono tre ferite mortali invece di di tre. Anche qui voglio ricordare che sono sia unità amiche che nemiche che vanno a soffrirne, quindi molto interessante, anche se un po' limitato come funzionalità, ma interessante. Poi abbiamo l'Enderspace Umbrus per Porta, Archive Passage, che cambia l'ultima sentenza con... Quando l'Enderspace è schierato in questa maniera, non conta come aver mosso, ma non può muoversi fino a successiva fase hero. E quindi direi che ci sta, perché effettivamente è appena stato evocato, quindi ok. Quindi possiamo andare a vedere per quanto riguarda le Grande Alleanze. Cominciamo con quella dell'Order e cominciamo con gli Stomax Eternas, che vedono aggiungere una Battotatics. E questa diventa sempre una cosa molto importante, perché è un ulteriore modo per fare punti e quindi per vincere la parità. Quindi vedere e raggiungere Battotatics è sicuramente una cosa estremamente importante. E abbiamo appunto assicurare il campo di battaglia, Secure the Battlefield, dove si completa questa Battotatics alla fine del proprio turno, se ci sono un qualsiasi numero di unità nemiche di Stomax Eternas, totalmente entro ciascun large quarter, quindi ciascun quarto del campo di battaglia, e a più di 6 pollici da tutte le unità nemiche. Quindi allo stesso tempo è facile e problematico, perché dovete muovervi e non è difficile quest'anno che a Stomax Eternas per occupare i quarti, però dovete essere anche a più di 6 pollici da un'altra nemica, quindi dovete fare un'attima attenzione, però non è particolarmente problematica. Abbiamo per quanto riguarda per Illuminate William Rolls, quindi abbiamo la Great Nation of Immetrica, che vede cambiare la regola del reanno della montagna, del reanno della montagna, a essere che Enduring S-Drock come abilità, di unità amica di Immetrica Alarit, comunità, peggiora la caratteristica di rend, di penetrazione, degli attacchi che bersagliano con l'unità, di 2 invece che di 1, fino a un minimo di 0, il che non è male, perché vuol dire veramente far cadere notevolmente la possibilità di penetrazione, quindi poter preservare più a lungo la propria armatura, quindi non è affatto male. Però abbiamo anche altre cose da guardare, sempre legate a Illuminate, abbiamo Enduring S-Drock, che abbiamo visto poco prima, modificato e infatti la versione base viene cambiata ad essere che quando quest'unità è bersagliata da un attacco, si peggiora la caratteristica di rend di quell'attacco di 1, fino a un minimo di 0, quindi comunque rimane ottimo, e abbiamo Deep Fingers, quindi si va a rimuovere la parte che non può essere modificato dalla parte regola e si cambia con una volta per battaglia, nella propria Hero Phase, se quando quest'unità tenta di lanciare il primo incantesimo in quella fase, ecco che viene automaticamente lanciato con un valore di lancio di 9, non si tirano i 2 di 6, e questo può comunque essere ancora disperso. Questo diventa molto interessante, perché comunque è un modo per castare con sicurezza, cioè essere sicuri che l'incantesimo vada, ma allo stesso tempo può essere disperso ed è una sola volta per battaglia, quindi non è così eccezionale. Buono, ma non è questo chissà che. Per quanto riguarda le City of Sigma, non abbiamo visto cambiamenti, anche se è stato riusciato il nuovo Battleton, per le Dr. Sukin stessa cosa, invece sono state portate nuove cose per quanto riguarda l'Aidonet Tipkin, dove c'è Fulton, che cambia la regola di Blood Fist Shiver, con se, cioè si può andare a includere il Blood Fist Shiver nella propria armata, a pagina 96, c'è la regola, se il tiro non modificato per colpire da un attacco effettuato da un'unità con questa regola di Blood Fist Shiver, è 6, pari a 6, ecco che l'attacco effetto ha due tiri per colpire al Bersalio invece di uno, quindi praticamente esplode l'attacco. È un classico, però ci sta sempre. Poi possiamo andare a vedere che abbiamo per quanto riguarda le Alleanze del Caos, abbiamo la stessa regola che avevamo visto per quanto riguarda Korn, quindi è rimasta, ma abbiamo delle aggiunte per quanto riguarda Magotin of Nargol, che vede aggiungere una Battle Tactic, e come ho già detto prima, è estremamente importante che ci siano queste cose, perché vuol dire che è implementata non da poco la cosa, perché appunto siano più funzioni. Abbiamo Doskrabble Chidram, dove si va a scegliere un obiettivo totalmente fuori dal proprio territorio e si completa questa Battle Tactic alla fine del turno se si contella quell'obiettivo e un'unità amica di Roadbringers e un'unità amica di Nargol Timon contestano quell'obiettivo. Quindi sicuramente non particolarmente difficile, perché è facile andare a conquistare fuori dalla propria zona di schienamento. L'unica vera problematica è che si deve avere due unità diverse, quindi una di Roadbringers e una di Nargol Dimon, che siano effettivamente entrambe su quell'obiettivo e quindi non da altre parti. Per questo tempo potrebbe essere comunque una Tactic, ma magari nel mezzo qui o non ci siete vicini, quindi non ha un problema e ci sta. Poi abbiamo per quanto riguarda gli scaven, che vedono anche loro aggiungere una Battle Tactic. Battle Tactic è molto caratteristica, perché è Fli Fli, quindi Fuggi Fuggi, dove si completa questa Battle Tactic se alla fine del turno un'unità amica di Battle Line Skaven e un'unità amica di Heroes Skaven si sono ritirati, sono fuggite. E sinceramente è molto falce, perché stiamo parlando degli scaven, la loro tattica abituale, quindi non è assolutamente un problema. Abbiamo poi che, per quanto riguarda il Green Seed, su Skimming Bell, il Plug Priest si va a cancellare la regola Pushed Into Battle, ok. Abbiamo per quanto riguarda gli Slate to Darkness, dove abbiamo che i Kabbalisti con il Rituali Blasfemi, ecco che si cambia il secondo paragrafo in modo che, in aggiunta, se si porta il Draw o Power come azione eroica a essere effettuata con un Hero Kabbalist, ecco che si può immediatamente realizzare un'altra azione eroica con ciascun altro Hero Kabbalist che possiede la keyword A of the God, occhio degli dei, e che sia entro tre pollici del primo, quindi è un modo per facilitare, però ricordate che dovete scegliere e realizzare prima quella che è appunto l'azione eroica, quindi dovete fare attenzione un attimo. Andiamo a vedere per quanto riguarda la Grande Alleanza dei Death, che ha visto numerose aggiunte, quindi abbiamo per quanto riguarda In Account, che vede cambiare la regola Flight of Flight, quindi, che è praticamente una grande strategia, quindi quando la battaglia termina si completa questa grande strategia se uno o più obiettivi che erano contesi da unità amiche di Night Hunt e non ci sono unità nemiche entro se poi ci danno qualsiasi unità amiche di Night Hunt che sta contestando un obiettivo, quindi ottimo, ma dovete fare attenzione perché vuol dire che voi state contestando gli obiettivi e tutti quelli che state contestando non devono avere nemici attorno, quindi dovete fare un po' attenzione perché non è così, piuttosto vi conviene addirittura rinunciare all'obiettivo piuttosto per realizzare questa grande strategia, quindi fate un po' di attenzione. Poi abbiamo per quanto riguarda gli Osterbo Reapers dove abbiamo Catacus che è il Mortal Coff Necropolis, il Mortal Coff Sacrament e il Bon Shape come abilità che vedono cambiare l'ultimo paragrafo in modo che se questa età è unità di Immortus Guard o Necropolis Stalker si può curare fino a tre ferite allocate a con un'unità o se non ci sono ferite che sarebbero allocate a con un'unità si tira un dado. Altro più è così far ritornare un modello ucciso a con un'unità con quattro ferite allocate adesso. E dove sta il trucco? Sta nell'ultima frase con quattro ferite allocate adesso perché ciascuno di questi modelli di Immortus Guard e Necropolis Stalker hanno cinque ferite quindi vuol dire che il modello viene fatto tornare parzialmente e cosa vuol dire? Vuol dire che vi serve di usare un'altra cura per riportarlo alle ferite massime. Questo vi potrà sembrare abbastanza semplice però dovete tenere ad esempio conto con l'abilità dei Boche che hanno l'artefatto che vi permette di usare una seconda volta la cosa quindi volendo poteste attivarla prima curare prima si poteva fare in modo che se potesseva di nuovo potevate riportare in vita un altro e la stessa unità adesso invece funziona che se per caso per esempio dovesse applicare appunto il Boche per quell'artefatto la prima riportate in vita il modello con il secondo se provate a usarlo di una sicurezza lì curate l'unità di quel modello lo portate a cinque ferite quindi non potete risuscitare un altro in questo caso questo invoglio magari a fare unità più piccole che quindi una volta che riportate in vita il modello è tornato e l'altro lo usate per qualcos'altro piuttosto che andare a usare sulla stessa unità a meno che non vogliate recuperare tutta e quindi tendete a concentrare sulla stessa dovete fare attenzione a queste cose perché cambia un po' il modo di giocare però comunque ci può stare poi abbiamo per quanto riguarda i subrai che come possiamo vedere hanno ricevuto le stesse FAQ precedentemente però hanno avuto due o meglio una cosa in particolare cambiata ed è molto importante questo cambiamento perché proviene dal incantismo spirit gale della sfera dei vampiri che vede che ha essere cambiato l'incantismo che ha sempre voluto di lanciare il 7 si è lanciato con successo adesso si scegliono tre differenti unità nemiche sul campo di battaglia e queste soffrono una ferita mortale invece prima era tutte le unità nemiche sul campo di battaglia se il tiro non modificato del tiro di lancio è pari a 9 o più ecco che l'incantismo se non è disperso vi permette di scegliere fino a 6 unità nemiche diverse sul campo di battaglia e infelice una ferita mortale se tenete conto che in questo caso prima era che si riapplicava di nuovo l'effetto quindi si faceva di nuovo il giro di una ferita mortale a tutto il resto del campo di battaglia è stata depotenzata parecchio però devo essere sincero pur giocando io su Black Evers questo ci sta perché era troppo cioè è uno degli incantismi più forti quantomeno perché vi permette veramente di lanciare con un semplice vampiro qualcosa che danaggiava tutte le unità avversarie e poi eventualmente lo danaggiava di nuovo in colpo solo era eccessivo veramente quindi ci sta nessun problema dirlo che ci fosse questa problematica poi abbiamo per quanto riguarda la grande alleanza destruction che non ha visto nessuna aggiunta a nessun cambiamento quindi sono le stesse che abbiamo visto precedentemente e poi andiamo a vedere quello che è la parte per quanto riguarda i punteggi che sono stati cambiati e per la maggior parte abbiamo visto dei decrementi in punteggi per esempio gli idonatikin hanno visto un notevole decrementi in punteggi in molte unità per quanto riguarda i serafone lo slan è aumentato e sinceramente ci può stare perché merita comunque in ogni caso anche se è stato aumentato è perfettamente consono per quanto riguarda i summon castanas continuano ogni volta che aggiornano ad abbassare i punteggi veramente continuano sempre di più a calare ok per quanto riguarda le idonatose slanish vediamo che alcune sono aumentate e alcune sono diminuite e sinceramente qui non so dire effettivamente quanto sono migliorate e peggiorate con questi aumenti per quanto riguarda i maggotin of nargle possiamo vedere che principalmente abbiamo visto un decremento dei punteggi a parte per l'ambigolo decay che ha visto un aumento poderoso dei punteggi però è stato anche introdotto da poco quindi va bene ecco che quindi può essere molto interessante in questo senso per le scave anche qui decrementi di punteggi sempre questa cosa per gli state darkness poi andiamo su quelle che mi interessano maggiormente che sono per quanto riguarda i night haunt che hanno visto dei decrementi soprattutto per le radio leader che non sono da poco secondo me abbiamo per quanto riguarda gli ossa bo reapers qui allora per quanto riguarda catacross secondo me è perfettamente dovuto perché calcolando quanto viene giocato catacross ci sta tutto quindi nulla da abiettare nonostante i giochi gli ossa bo reapers perché ci sta totalmente non riesco a capire perché l'aumento per quanto riguarda i cavlots e friders che ok sono fortini ma non giustificano questo momento ma quello che mi interessa è il calo degli altri perché c'è ghost starvest che dopo il cambio nelle fac delle abilità sinceramente potrebbero abbassarle anche di più e sarebbe ancora benvenuto però comunque ci sta diventa accettabile a questo punteggio il mortal guard che sinceramente è l'unità base e sinceramente ci stava perché 150 punti erano troppi per quello che poteva fare quindi perfettamente benvenuto e la mortal clove che dato che è una delle poche cose che vi permette di gittare a distanza con gli ossa bo reapers è benvenuta non un decremento in punteggio perché è veramente benvenuto quindi devo mettere che nella mia stessa lista praticamente potrei mettere qualcos'altro con quei decrementi portati qui poi abbiamo i super givers e qui abbiamo un aumento in generale di punteggi di tutto allora per quanto riguarda i the worker zombie forse 30 punti sono troppi però 20 punti più ci stavano non ho nulla a dire a riguardo perché sono comunque un po' troppo forti soprattutto per le combinazioni che si possono fare non vado a capire molto per quanto riguarda il white king e il white king su cavalcatura scheletrica perché sinceramente non sono così forti cioè dai devono essere semmai a qualcosa agli scheletri oppure ai cavaliari per poter fare qualcosa non viene giustificato anche l'aumento dei scheletri si ok però questi si potranno evitare invece capisco bene l'aumento per quanto riguarda torgiroste che sinceramente era praticamente un segratuto gratis in giro prima quindi ci può stare in generale ok ci può stare gli aumenti in punti per alcune cose più di altre però si ok qualcosa che ci si prende atto alla fin fine sono cose specifiche ci sono alcuni modelli che non sono totalmente d'accordo però in generale ci può stare soprattutto per la parte per quanto riguarda gli zombie quindi va bene quindi diciamo che queste sono le cose che sono state portate sinceramente sono curioso di sapere cosa ne pensate voi se ci sono cose qui dentro con cui siete d'accordo per i punteggi per le regole per i cambiamenti che sono stati portati se gli aggiustamenti vi trovano interessati alla cosa se effettivamente c'è qualcosa che vi ha fatto un passo al naso oppure lo avete apprezzato io sinceramente in generale l'ho apprezzato soprattutto per la parte dei punteggi e comunque anche per le regole secondo me ci stava quindi ok quindi ditemi la vostra nei commenti perché secondo me c'è appunto da considerare e vi ricordo comunque che se siete interessati a quelle altre cose di cui non ho parlato che appunto partengono sempre alla Bateskull Tatic of Andor potete trovare in descrizione il link al precedente video dove appunto parlo e analizzo tutte le regole che sono state introdotte prima ad ogni modo da Denemode è tutto vi invito a iscrivervi al canale a suonare la campanella per ricevere notifiche per quanto riguarda nuovi video a commentare qui sotto per quanto riguarda questo video o se volete suggerirmi per quanto riguarda nuovi video a cui potreste essere interessati spero di rivedervi presto alla prossima a